Un video per promuovere Lucera, sta funzionando questa idea? Sì, diciamo che c'è molto interesse, ci sono molte persone, molti ragazzi, molti giovani che vogliono partecipare. Oggi sono arrivati ad esempio due ragazzi da Milano che risiedono a Milano, originari di Lucera ma che risiedono a Milano e sono venuti apposta apposta per fare questo video. So che arriveranno da tutta la provincia delle proposte, delle offerte, quindi sono contento, è una bella cosa. Il nostro obiettivo è avere qualcosa da poter utilizzare poi per promuoverlo nel nostro territorio che è molto bello, è molto qualificato, ha dei monumenti veramente bellissimi però probabilmente ci manca un qualcosa del genere da poter far vedere anche fuori. A proposito di qualificare e riqualificare il Castello e il Viale Castello? Il Viale Castello a breve partirà, adesso stanno facendo i sondaggi per le indagini geologiche e questo è un altro concorso di idee che abbiamo fatto e che a breve, spero a breve, insomma il breve della pubblica amministrazione, inizieranno anche i lavori perché adesso ci stanno facendo la progettazione esecutiva i progettisti che hanno vinto il concorso di idee e a breve partirà un altro bel progetto, un altro bel concorso di idee perché noi è così che la vogliamo amministrare la città, insieme a tutti quanti, le idee, chi ce le ha, le tirasse fuori e amministriamo la città. Noi vogliamo fare una piscina comunale e quindi una piscina all'aperto praticamente, una piscina estiva perché non ce l'abbiamo una piscina estiva e credo che lui c'era la meriti come città, una offerta del genere, a breve tireremo fuori i progetti che sono arrivati per l'ampliamento del cimitero e faremo una mostra anche di quello, ma del cimitero, certo, faremo una mostra per far vedere a tutti i progetti che sono arrivati al Comune di Lucera per l'ampliamento del cimitero, se non ricordo male ne sono arrivati 5 di proposte e poi ricordo a tutti il bando per l'estate lucerina. Io invito tutti quanti a partecipare, a fare una offerta, sappiamo che non sono tanti 20 mila euro più IVA per una intera estate, ma quelle sono le risorse che abbiamo e noi utilizziamo quelle. Proprio stamattina valutavamo ad esempio che se ci fosse qualcuno che è in grado anche di procurarsi degli sponsor come offerta migliorativa ad esempio e quindi contribuire alla buona riuscita e quindi a degli spettacoli di qualità sia in termini quantitativi che in termini qualitativi con l'aiuto di sponsor, voglio dire che è una soluzione fattibile e possibile, quindi fatevi sotto, fatevi avanti, non è che le facciamo per finta queste cose, le facciamo davvero.